Allora facciamo un regalo, noi ci eravamo lasciati giovedì sera in live con questa notizia, ci eravamo lasciati con questa notizia qui, notizia di Radio Bruno e anche di Lady Radio, ad essere sinceri e onesti, perché noi abbiamo citato Radio Bruno ma anche Lady Radio, grande Frenci, notizia anche di Lady Radio, quindi le due radio hanno dato questa notizia, parliamo di giovedì sera, quindi parliamo di quattro giorni fa, Radio Bruno ci dà questa notizia, poi naturalmente quando viene data una notizia del genere, crea fibrillazione, Poi, in realtà questa notizia non ha avuto grandi conferme, devo essere sinceri, Di Marzio ha frenato, ha detto domani è previsto un incontro, vediamo, tutto mercato web dice, il Monza chiede il titolo definitivo, la Fiorentina offre il prestito, quindi anche per tutto mercato web, tutto tranne che vicino, Gagliani il giorno dopo ha detto, per ora il telefono piange e ha praticamente annunciato che non ci sarebbe stato nessun pranzo, anche perché venerdì la Fiorentina ha fatto l'amichevole al Viola Park contro la Reggiana e Pradera al Viola Park, quindi nessun pranzo con Gagliani, poi siamo nel 2024, due persone si vogliono parlare e si vogliono vedere o fanno, però nessun pranzo, poi andiamo avanti, poi questo è quando ci ha detto Alfredo, il Monza ha aperto per il prestito di Colpani, ma non sono previsti incontri a breve, questo ci ha detto Alfredo, venerdì, nella live del venerdì, tra l'altro domani i live con Alfredo dalle 14. Poi l'argomento Colpani come notizie è un po' svanito, siamo rimasti qui, domani vediamo Alfredo cosa ci dirà, Colpani tutto questo è nel ritiro del Monza, ha detto vai alla Fiorentina? Non lo so, giustamente, cosa doveva dire il ragazzo. Poi vabbè, amichevole, noi alla Summer Cup, abbiamo, questo è quello che ci aveva detto, che ci ha detto Pedulla su Lovric, ovvero Lovric vuole andare via da Udine, un intermediario di Firenze l'ha offerto alla Fiorentina, così anche Alfredo su Lovric ci ha detto la verità. Poi, Amrabat, che il Manchester non lo riscatta, e poi le parole di Gagliani ancora su Colpani, Colpani non è vicino alla cessione, ma nel mercato le cose possono cambiare, quindi cosa ci ha detto Gagliani, che conferma a dire il vero quello che ci ha detto Pedulla, quello che ha detto Di Marzio, quello che ha detto tutto mercato web, ovvero Colpani può andare alla Fiorentina? Sì, è vicino Colpani? No. E abbiamo quattro conferme. Io, dal mio modestissimo parere, penso che le tre grandi fonti di notizie sul mercato sono tutto mercato web, Di Marzio con Sky e Pedulla con Sport Italia, che non vanno insieme, però per farvi capire. Se queste tre fonti sono concordi e Gagliani conferma, vuol dire che Colpani non è vicino alla Fiorentina. O meglio, non lo era giovedì, non lo era venerdì, non lo era sabato, non lo era domenica, non lo è oggi, poi magari lo sarà domani e domani lo racconterò. Però, andiamo avanti, per fare un po' il recap delle ultime ore, poi la lettera meravigliosa di Milenko, che poi magari andiamo ad evidenziare e ne parliamo. Poi, la decisione del match è di non riscattare Amrabat, perché lo vuole con uno sconto, ma questa è una notizia che avevamo già dato. Ieri è solo arrivata la conferma di tutto questo. Poi, vabbè, anche su questo ne parleremo dopo. Retroscena poi ne parleremo domani con Alfredo. Parato oggi. E poi l'ultima su Colpani. Distanza tra Fiorentina e Monza per Colpani. Il Monza vuole l'obbligo di riscatto. Questo. Queste sono le ultime su Colpani. Mi hanno fatto un po' il viaggio su Colpani. Detto questo, detto questo, cosa mi viene da dire? Poi voglio sapere anche Emilio che idea ha sull'argomento. Cosa mi viene da dire su questa roba qui? Secondo me Colpani arriverà. Io mi espongo. Ma è una mia sensazione personalità. Per me Colpani arriverà alla Fiorentina. Però non è vicino in questo momento. Cioè non era vicino giovedì, non era vicino venerdì, non era vicino... Cioè non è... In questo momento Colpani non è vicino alla Fiorentina. Se avessi un euro da scommettere, lo scommetterei su Colpani alla Fiorentina. Però non è vicino, come è stato raccontato. E chi ha detto giovedì che Colpani era vicino, oggi dovrebbe spiegare cos'è cambiato. Perché se un giocatore è vicino... Noi abbiamo detto martedì scorso Pongracic è vicino. Mercoledì hanno chiuso. Giovedì Pongracic era a Firenze per le visite medie. Cioè funziona così. Se tu mi dici che è vicino giovedì e lunedì sera non mi dai più notizie vuol dire che o hai detto a caso o mi hai preso per il culo o non sei informato. Detto questo, che ne pensi tu su Colpani? Emilio, secondo te arriverà Colpani? Secondo me arriverà ma la Fiorentina lo vuole ma secondo me lo vuole fino a un certo punto. Nel senso che per Pongracic ce lo voleva e in 4 e 4-8 lo ha chiuso. Qui mi sembra che anche qui sta diventando la novella Zaniolo. Nel senso arriva, è vicino domani firma, poi non arriva. insomma, quindi credo anche che purtroppo di queste trattative io rispetto il lavoro di tutti però credo anche che molti tirino un po' così a indovinare perché comunque voglio dire se avvicino oggi però cioè domani sembra più lontano cioè secondo me a volte non ci smolti molti parlano senza probabilmente neanche sapere di che cosa stanno parlando. mi prendo la responsabilità di quello che dico però sinceramente cioè di tutte queste trattative che riguardano il mondo fiorentina ci accostano 50 nomi e poi di questi 50 forse ne sono veri due e magari di questi due non sono neanche così vicinissimi. Poi penso che arriverà però la domanda è se veramente la Fiorentina lo vuole veramente perché trattarlo lo puoi trattare però probabilmente forse la Fiorentina non lo ritiene così fondamentale nel proprio mercato perché altrimenti secondo me a parer mio lo avrebbe già chiuso secondo me. Sai che la penso esattamente come te io penso che lui arriverà mi sono ma è una mia sensazione ripeto però che non sia in questo momento una priorità della Fiorentina cioè non è qualcosa che la Fiorentina ha fretta di chiudere se non la Fiorentina in questo momento ha altre priorità perché dobbiamo essere bravo signor cioè dobbiamo essere sinceri e onesti oggi Palladino sta facendo la tournée senza centrocampisti cioè noi da qui al 31 quindi per 10 giorni faremo una tournée faremo degli amichevoli giocheremo con delle squadre ma non avremo un centrocampo poi andiamo su Alci ragazzi poi andiamo su Alci perché la notizia l'abbiamo data la leggete sulla Baro Viola però poi ne parliamo su Colpanni che pensi arriverà secondo te Simo? Secondo me può arrivare presti con un po' di diritto di riscatto però il problema è che al momento il mondo chiede troppo per il giocatore attualmente comunque ha fatto mezza stagione non è un giocatore che possono spingere tanto a livello di prezzo però anche loro gli conviene tenere un giocatore che non vuole rimanere? Cioè loro se rischiano di non concludere questa affaire rischiano di tenersi un giocatore veramente sul gruppone per tutto l'anno che non ha voglia di stare a Monza scrivere anche questa cosa potrebbe diciamo andare incontro a favore nostro però c'è anche un'altra cosa con ogni cosa si fa cioè io ho paura anche che Niko se arriva un'offerta giusta possa andare via su me è tutta una reazione a catena questa situazione colpani Niko su me i prossimi 15 giorni su me saranno fondamentali per il mercato e poi su anche di Dekun che non è una priorità attualmente hai un centrocampo con Mandragoro e Bianco attualmente non hai nessuna certezza all'inmezzo al campo a meno che succeda il miracolo e Bianco diventa il tuo titolare fisso ma attualmente non posso diciamo sperare in miracoli ecco io voglio certezze attualmente però io ti faccio una domanda poi andiamo su questo ragazzi però io ti faccio una domanda cattiva noi critichiamo sempre la Fiorentina perché non fa scouting però le scouting a casa mia per come le interpreto io gli scouting sono scommesse e allora perché non potresti anche accontentarti tra virgolette di Bianco cioè oggi dire Bianco a centrocampo la gente bestemmia cioè lo vede come una io allora no